Allora Federico Allora abbiamo cercato di risolvere il problema della visibilità in bici e soprattutto dell'indicazione della svolta per questo abbiamo messo appunto un apparecchio con due frecce a led e praticamente i pulsanti si sistemano sul manubrio e premendo il pulsante si accende la freccia e ripremendolo si spegne così si è più visibile di notte mentre si svolta e questo apparecchio andrebbe sistemato dietro il sellino della bici diciamo e i pulsanti sul manubrio appunto e diciamo che abbiamo realizzato questo progetto con Arduino e l'alimentazione è un power bank da 2600 mAh quindi molto comodo da staccare, da mettere in carica e basta qua facciamo una breve dimostrazione freccia a sinistra e freccia a destra vogliamo vedere qui un prova pubblicitario? A me piace andare in bici mi piace sentire l'aria sulla pelle e mi piace andare all'aria perda solo che ho un problema quando vado difficile sono visibile alle macchine ho provato con pettorine ma non funziona però con Safe Flight con Safe Flight è cambiato l'indicazione perché adesso posso vedere posso indicare alle macchine dove sto andando adatta l'alimentazione la mia Grazie.